Si chiama Giulia e viene da Roma ed è la prima tronista di Uomini e Donne il 2019. Una scelta quella degli autori che secondo alcuni sarebbe in controtendenza rispetto agli ultimi tempi e che sarebbe per dividere il pubblico della trasmissione condotta da Maria De Filippi. La ragazza che ha 27 anni di età ha diffuso un video proprio su un sito internet che ha deciso di diffondere proprio il suo provino. È una ragazza romana, ripeto, molto determinata, con la testa sulle spalle, si prepara ad affrontare l'ultimo anno della laurea magistrale in scienze politiche ma dimostra anche di essere una persona molto semplice, capace di mantenere una grande umiltà. Vive con la mamma e non ha grilli per la testa, non ha relazioni o meglio amicizie sbagliate, e buona di cuore. Vi ringrazio per l'ascolto, dunque Giulia da Roma è la prima tronista di Uomini e Donne il 2019. Un saluto caro da Leandro, Alias D'Apostolo, narratore italiano.